Ciao a tutti, mercoledì 24 ottobre 2018, siamo ancora qua su CiperTV, siamo sempre in trasferta, anche se siamo lo stesso che la Sibilizio, ma è complicato da spiegare, quindi andiamo subito con il riscaldamento che forse è meglio. Il riscaldamento di oggi è 1000 metri raw a medium pace, quindi a una velocità media diciamo sui 2 minuti, 2 minuti e 0,5 per 500 metri, seguito da un lavoro per i fianchi con gli elastici e da una pigeon pose che terremo circa 2 minuti per ogni lato, come al solito nella scheda ci sono tutti i link per tutti gli esercizi. Dopodiché andremo a costruire un heavy single di squat clean, fatto questo concluderemo con il what di oggi che prevede 20 minuti unwrapping team da due, quindi a coppia, dove faremo 3 wall ball, 3 kettlebell swing, 3 calories low e al completamento di ogni singolo round aumenteremo di 3 rep, quindi il successivo sarà 666, quello dopo 999 e così fino ai 20 minuti. Ogni atleta deve però completare il round prima di cominciare a incrementare il carico. Carichi e tutto il resto, come al solito nella grafica qui di fianco, ci sentiamo domani, buon vuoto!